Un sabato sera temporalesco sulle nostre regioni settentrionali, confermato il passaggio di un fronte freddo dalla Francia direttamente verso i Balcani, ma che lambirà l'area alpina con temporali già durante il pomeriggio su Alpi e Prealpi, in spostamento in estensione parziale durante la serata anche ad alcune zone della Valpadana, non solo tra Piemonte e Lombardia, ma anche le Venezie e poi durante la nottata la Romagna. Attenzione proprio tra Venezia e Lombardia, temporali localmente intensi con qualche scoscio di pioggia abbondante e colpi di vento. Situazione che poi vedrà un miglioramento nel corso di domenica, solo qualche rapido piovasco sarà possibile ancora in mattinata tra Marche, Abruzzo, Umbria e Bassa Romagna. Andiamo poi alla nuova settimana perché l'alta pressione di nuovo dalla Spagna si estenderà all'Europa centrale con i massimi proprio tra Inghilterra e Francia, bloccherà le perturbazioni atlantiche verso il Mediterraneo, ma una zona di aria più fresca sui Balcani potrebbe favorire durante il pomeriggio qualche fenomeno convettivo, qualche breve temporale di calore sulle Alpi di Nordeste e dorsale appenninica, più sole altrove. Tutti i dettagli precisi sul nostro sito web.